Tra tutti gli starter di Galar, sicuramente la linea evolutiva di Sobol, Drisail e Inteleon è quella che mi ha colpito di più. E se devo essere onesto, ciò è dovuto al fatto che il loro carattere e il loro percorso evolutivo mi ha per certi versi ricordato la mia evoluzione come essere umano. E parlare di questo Pokémon e di questa linea evolutiva in questa sede sarà un po' come parlarvi di me e dei miei cambiamenti nel tempo. Non soltanto dei cambiamenti fisici, ma anche e soprattutto oserei dire di quelli mentali. Ma per questo dovrete attendere ancora un po'. Per ora lasciate che vi dia il benvenuto in questo nuovo concept analysis. Come di consueto, quando si tratta di linee evolutive, direi di partire dalla forma base, in questo caso ovviamente da Sobol. Lo starter di tipo acqua di Galar ha due armi principali, ma entrambe si connotano in un senso difensivo. In un caso il Pokémon a contatto con l'acqua è in grado di cambiare il colore della propria pelle, mimetizzandosi con l'ambiente circostante e di conseguenza sparendo dalla vista di chi gli è attorno. Questa tattica è usata da Sobol in contesti in cui il Pokémon si trova nervoso o si sente in imbarazzo, secernendo dal suo corpo acqua come fosse sudore e andando così a rendersi invisibile agli occhi esterni. La seconda strategia che il Pokémon attua è quella di scoppiare in un pianto fragoroso che contaggerà il proprio nemico che non potrà fare a meno di unirsi al Pokémon acquacertola. Tale reazione in risposta alle lacrime di Sobol non è però una reazione emotiva come di base accade a noi esseri umani, ma chimica. La sua causa è analoga a quella che produce il taglio di una cipolla che tutti noi ben conosciamo, ma con una potenza addirittura centuplicata, producendo una sostanza che a contatto con gli occhi li irrita a tal punto da produrne la lacrimazione. Come forse avrete notato o come forse avrete già pensato, questo quadro che abbiamo dato di Sobol va a fornirci una visione molto particolare del Pokémon, perché non lo getta in un classico contesto di lotte Pokémon, ma piuttosto in delle situazioni molto comuni e che anche noi esseri umani nel nostro mondo viviamo quotidianamente. Spesso si dice o si sente dire in situazioni imbarazzanti di voler scomparire, di volersi sotterrare. Spesso si vorrebbe essere altrove rispetto al luogo che causa determinate sensazioni negative. E questo accade in particolare con la sensazione dell'imbarazzo, quando ci sentiamo giudicati da persone esterne a noi anche in maniera tutto sommato irrazionale se vogliamo essere onesti. E a tal proposito un'altra delle reazioni più classiche all'imbarazzo e al nervosismo è quella di sudare copiosamente. E dunque in Sobol i due effetti, uno prettamente fisico, ossia la sudorazione, e uno più mentale, ossia il desiderio di scomparire, si riuniscono con il primo che soddisfa il desiderio del secondo. E infine anche il reagire piangendo di fronte a un pericolo è una risposta al pericolo stesso. Piangere fragorosamente di fronte a una minaccia significa invocare l'aiuto di una persona esterna, rappresenta una sorta di incapacità individuale a sostenere un determinato tipo di situazione. Pensate molto banalmente ad un neonato che piange quando ha fame, cercando di richiamare l'attenzione in questo modo di chi ha il dovere di nutrirlo. Tutte queste caratteristiche sono da porre in relazione con quello che è il carattere generale del Pokémon, che ci è presentato come una creatura molto timida e molto timorosa, una creatura che è messa in soggezione da qualsiasi cosa accada attorno a lei. Si pensi per esempio alla bacca che Grookey lascia cadere di fianco a Sobol all'interno della cutscene che precede in Pokémon Spada e Pokémon Scudo la scelta degli starter. Ora questo carattere con Drizile inizia a mutare e muta nella direzione in cui solitamente muta il carattere di una persona tipicamente naturalmente timida e timorosa. Sobol, crescendo, deve necessariamente rapportarsi al mondo esterno. E nel mondo Pokémon, come del resto nel nostro, ciò vuol dire dover affrontare delle lotte, siano esse lotte per il nutrimento o per il sostentamento negli stadi di Galar. Drizile fa questo alla perfezione, sfruttando quelle abilità che precedentemente Sobol aveva usato ad uso esclusivamente difensivo per scappare dall'esterno. Ora Drizile attacca concretamente il nemico, ma lo fa di soppiatto e fuggendo subito dalla vista della propria vittima, servendosi in ciò della capacità ereditata da Sobol di rendersi invisibile a contatto con l'acqua. Delle due caratteristiche di Sobol analizzate poco fa, potremmo dire che Drizile ne archivia una, ossia quella del pianto, e ne mantiene invece l'altra, ossia l'agire in maniera defilata, in secondo piano, senza mai entrare nel vivo dell'azione. È come se Sobol avesse imparato ad affrontare il mondo esterno, però a suo modo, non esponendosi al nemico in prima persona, ma ideando piuttosto trappole e stratagemmi mediante il proprio ingegno per non dover agire direttamente e tenere comunque alla larga i propri nemici. Utilizzando come arma il proprio ingegno, da un lato Drizile evita il contatto con l'avversario, ma dall'altro è anche autorizzato a non fare nulla per fermarlo. Se questo Drizile è un Pokémon intelligente, calmo, ma ancora defilato rispetto al reale svolgersi degli eventi e dunque rispetto alla vita, Inteleon supera anche questo scoglio caratteriale del Pokémon e a mio avviso lo fa in maniera molto particolare. A nascondersi, infatti, non è più né il timido Sobol né lo svogliato Drizile, ma sono le armi di Inteleon. Inteleon si mostra l'avversario come fragile, ma poi utilizza l'occultamento e l'intelligenza come vere e proprie armi. Le lenti che ricoprono i suoi occhi sono in grado di analizzare i punti di forza e di debolezza del nemico, dalle dita sparagetti d'acqua ad altissima velocità. Addirittura ci viene detto dal sito ufficiale che nella coda di Inteleon viene nascosto un pugnale. Drizile, a ben vedere, nonostante elabori trappole e stratagemmi, pur sempre mediante il suo ingegno, resta comunque un Pokémon che verso l'avversario ha un atteggiamento sostanziale di ritirata. Al contrario, Inteleon è un po' il compimento di Sobol e Drizile. Tanto l'idea di agire nell'ombra e di celarsi al nemico, quanto l'idea della creatura intelligente scaltra in grado di analizzare la situazione circostante e di trarne dei vantaggi qualsiasi essi siano, si riflette nello stile di Inteleon, che in aggiunta diventa finalmente attivo e propositivo rispetto all'avversario. Non più un atteggiamento di semplice ritirata di fronte all'avversario, testimoniato dal ruolo delle trappole di Drizile, ma piuttosto una maggiore tendenza all'attacco, all'offesa, allo scoprirsi al nemico e dunque allo scoprirsi al mondo esterno di cui il pugnale è emblema. Non solo, ma Inteleon cambia anche mentalmente. Drizile ci risulta ancora immaturo perché incatenato nella sua svogliatezza e desideroso come un adolescente di essere lasciato in pace. Eppure Inteleon verso l'altro non dimostra più né la svogliatezza di Drizile né tantomeno l'originaria paura di Sobol, ma piuttosto lealtà, onestà e cavalleria. Inteleon non ha solo imparato a combattere, ha anche imparato a porsi in relazione con il mondo e immagino abbiate compreso che la parte sentimentale non può che giungere adesso. Un Pokémon che nasce timido e impaurito dall'esterno, da cui prima si nasconde, poi si difende accuratamente e infine vi entra in relazione, diventando in questo modo attivamente parte di esso. Il fatto di passare da un atteggiamento difensivo ad un atteggiamento offensivo non è che una metafora. Una metafora all'interno della quale la parola offensivo diventa propositivo e che rispecchia il carattere del Pokémon finalmente giunto alla sua maturità. Un carattere che non può fare altro che evolversi, ma che tutto sommato non potrà mai cambiare. Inteleon non sarà mai Cinderace, non sarà mai un Rillaboom, sarà sempre Inteleon e in una certa misura sarà sempre Sobol. E se mi sono rispecchiato tanto nella sua linea evolutiva è perché forse, a conti fatti, in realtà è la mia. Qualche settimana fa, in un video che trattava gli starter di ottava generazione, avevamo sostenuto che questi nuovi starter tentassero di replicare i caratteri di determinati tipi umani e che di conseguenza fosse questo il motivo per cui risultavano così divisivi nel loro giudizio. Questo era esattamente quello che cercavo di dire con quelle parole. Non mi aspetto che tutti riescano ad apprezzare Inteleon, perché Inteleon mira a colpire i cuori di determinati uomini. E' arrivati a questo punto del video, non vorrei cadere troppo nel sentimentale perché cerco sempre di essere oggettivo, ma io anni fa ero Sobol. Ogni situazione mi appariva imbarazzante, ogni discussione mi gettava nel panico, desideravo solamente non avere gli occhi puntati addosso, desideravo solamente scomparire e ritirarmi dalla mia cameretta. E con il tempo ho imparato a difendermi, ad accettare gli occhi degli altri puntati su di me, ma soprattutto ho imparato ad affrontare la vita. Certo l'ho fatto a mio modo, certo l'ho fatto con le mie imperfezioni, certo l'ho fatto con le mie caratteristiche, ma se non ci fossero non sarei io. Il mio carattere si è evoluto e così doveva essere perché possiamo credere di fuggire dal mondo esterno, ma la realtà è che ne siamo infetti da dentro. E allora forse è proprio nel nostro modo di porci in relazione con il mondo che ci circonda che ci evolviamo e che cambiamo. Ogni Pokémon si evolve perché entra in relazione con qualcosa di esterno, sia esso un nemico, sia esso una pietra, sia esso una qualsiasi situazione ambientale o un qualsiasi percorso di vita. E' anche stupido parlare di Pokémon perché è una cosa talmente ovvia che molto spesso nemmeno ci pensiamo. Anche gli animali nel corso delle ere si evolvono perché determinate condizioni ambientali richiedono un loro adattamento. E le condizioni ambientali sono esterne agli animali, fosse per loro gli animali resterebbero sempre quello che sono, ma ciò non accade. E se le armi di Intellion sono i getti d'acqua, i pugnali e le lenti, la mia arma è stata YouTube. In questo momento sto parlando di fronte a una quantità di persone che potrebbero riempire il teatro della scala, ma davanti a me ho una telecamera, delle luci e una cucina da pulire. In questo momento io sto interagendo con il mondo esterno, ma mi sto allo stesso tempo occultando dai vostri sguardi. E non credo che ad oggi rimarreste soddisfatti se dovessi fare un concept analysis, che so, al teatro della scala. Sarebbe troppo per me, un passo per cui forse ho ancora bisogno di tempo e di maturazione, ma tutto sommato qualcosa che desidero. Perché sì, io vi ho detto che quella di Sobol è la mia linea evolutiva, ma non vi ho detto dove mi trovo in questa linea evolutiva. Ed io credo, in tutta onestà, di essere un po' a metà tra quello che è Drisail e quello che è Intellion. Ho imparato ad affacciarmi sulle finestre della realtà, ma molte volte sento ancora il bisogno di chiuderne le persiane. Molte volte sento ancora il bisogno di ritirarmi come Drisail nella mia svogliatezza. E forse, volendo dirla tutta, Intellion in realtà non è nient'altro che una meta ideale come lo sono tutti i personaggi fantastici. Nessuno sarà mai Superman e nessuno sarà mai Intellion. Forse anche Intellion alle volte ha bisogno di chiudersi e di ritirarsi in se stesso. Forse anche Intellion a volte ha bisogno di piangere. Forse anche lui a volte desidererebbe scomparire. E forse anche Intellion, in fondo al proprio cuore, non è nient'altro che un Sobol fin troppo cresciuto. Bene ragazzi, io spero che questo concept analysis, seppur un po' più breve del solito, vi sia piaciuto. Se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Dato ciao ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!